Eccoci qui, primo festival di Aprilia, del comune di Aprilia, San Michele, primo San Michele. Prima edizione del San Michele Festival. Ecco, Johnny, quante edizioni hai presentato tu qui ad Aprilia? Nel San Michele tantissime, oltre una ventina. Questa è la prima edizione del Festival San Michele 2014, proprio perché abbiamo dato una collocazione nuova, come avete visto, puntando un po' sulla qualità e la diversificazione degli artisti. E infatti hanno preso me, per diversificare. Molto brava anche lei, abbiamo visto veramente un festival di qualità, da fare in Aprilia, ma dico veramente a Sanremo. E a Festival Bar, soprattutto. Soprattutto, no, ma stiamo scherzando indubbiamente, ma è il lancio di una nuova collocazione, sia da un punto di vista così, proprio di costi? Sì, di costi, sicuramente musicale, perché artisti di altissimo livello sono venuti su questo palco, anche se era la prima edizione. Quindi speriamo di crescere sempre di più, ma già così va alla grande, ci è piaciuto, è piaciuto a tutti. Ricordiamo a chi non ha potuto assistere, chi c'è stato, chi c'è stato finora? Eh, fino ad ora c'è stato Renzo Rubino, Francesca Michelin, Annalisa Scarrone, e poi è salito sul palco Roy Pace e Simona Molinari. Esatto. Insieme a due dei componenti dei Kriegers che hanno aperto la seconda serata. Proposito Kriegers. No, Kriegers. Hai visto che ci mettono? Eh, tutti uguali. Ecco, vai. Passa su di lei al volo, passa. Due battute. Sì. Come andata? Andrà benissimo. Ciao. Sì, è andata bene, il pubblico di aprile è bellissimo, caldissimo, e poi questa festa che ho avuto modo di conoscere pian piano mi sembrava davvero una bella festa, molto sentita. Tra un po' ci sono i fuochi d'artificio, mi hanno detto. Quindi mi hanno detto che sono proprio belli qui i fuochi d'artificio, per cui sono vorreste anche di vederli. Sicuramente sì, abbiamo visto qualcosa di straordinario con te, veramente complimenti, sono impazziti tutti quanti. Grazie, grazie davvero. Io cerco sempre di dare il massimo, poi qui in particolar modo, perché questa è una città particolare, perché qui ho registrato i miei dischi. Abbiamo visto un duetto fantastico, anche con Roi. Da dove sei venuto? Io arrivo direttamente da un viaggio infinito da Cracovia, l'ho fatto quasi in macchina, perché cancellando i voli, alle volte bisogna anche imbarcarsi in queste situazioni, però ho fatto di tutto per arrivare qui. Uno, perché comunque c'era una bellissima piazza di aprile, due, perché comunque per me è un onore aver sonato, grazie al cielo, finalmente per la prima volta con la meravigliosa Simona. Per me è un onore, per me è un onore. Sono felicissimo di essere riuscita ad arrivare oggi. Abbiamo visto, come diceva Simona, qualcosa di veramente strabiliante, cioè un cocktail, un mix, un'energia, come posso dire? Senza aver toccato minimamente la bottiglia di palco, quindi siamo così, cioè di natura siamo già così. Eccociò, abbiamo inaugurato questo primo festival di San Michele d'Apriglia. Grazie, siamo contenti, io sono contenta di essere stata la prima in questo senso. Aspettiamo le prossime dieci edizioni come minimo, no? Che è partita alla grande immagino, quindi vi auguriamo a tutti quanti voi, alla cittadinanza e ovviamente a chi gestisce la situazione, di poter veramente proseguire su questa strada. È una bellissima iniziativa e soprattutto è partita grandiosamente. Veramente strepitoso, ricordiamo il sindaco, il comune di Aprile, che ha permesso tutto ciò, il comitato Grandi Eventi e poi il produttore Carlo Avanello che ha avuto anche lui il premio che si è distinto per Aprilia. Certo, lui è proprio di qui e quindi, come dicevo prima, qui ho registrato tutti i miei dischi, quindi questa è una città un po' particolare che mi è particolarmente cara. Poi abbiamo visto anche il grande Renzo Rubino. Eh sì, grande, grandissimo. La tromba si chiama Sofia, però poi te la presento in un altro momento, è bella anche lei, non bella come si muove, però insomma si distingue nella massa. Veramente grazie, grazie, grazie. Questa città vi ringrazia perché l'avete fatta esplodere. Grazie a voi e adesso vado a salutare appunto la città. Salutiamo tutti quanti. Ciao, grazie. Ciao, grazie.